Musica E oggi siamo ovviamente ancora a casa Oggi è la festa del lavoro Allora, oggi che festa? Che possiamo fare? Più che altro a sto giro non mi ha chiamato nessuno per persone scomparse Cosa possiamo fare oggi? Non c'è letteralmente nessuno È una delle pochissime giornate in cui mi ritrovo a non aver niente da fare Wow La cosa più intelligente che posso fare a sto punto è andare ad allenare le persone, sai? A proposito di persone 66 di attacco siamo arrivati, madonna mia Ha superato persino Oni che l'abbiamo allenato da solo senza nessun tipo di oggetto Siegfried diventerà veramente un bestione Vediamo cosa c'è oggi Ancora la forza E ti dirò Arrivato a questo punto Tiriamola più che possiamo Oh salve John Pain-san è ancora nella sua stanza È difficile perdere qualcuna qui Sei così legato Spero che stia bene Beh lo speriamo tutti immagino Questa è stata una delle primissime volte in cui mi sono letteralmente trovato finalmente a non avere nulla da fare in tutto il tempo del gioco Wow Assolutamente Certo abbiamo speso 4000 yen per poter potenziare di 6 punti d'attacco Siegfried Che è comunque un guadagno e non è stata una gran spesa Però cavolo E oggi inizia la settimana di tirocinio Immagino Il tirocinio curriculare si svolgerà nei prossimi 4 giorni Da noi dura un mese Non vieni pagato Vieni anche sfruttato A me cosa è capitato Area commerciale What to die Wild Duck Ti prego Dio mio Ti prego Davvero Ti mette a fare lo stagista nel Wild Duck Per i prossimi 4 giorni darò una mano con le pulizie Wow Mi sono impegnato molto per abituarmi al lavoro Immagino Sì signora Ehi come va Per qualche motivo Tomo-chika è davanti al ristorante Giorno a te Anche tu a lavorare qua? Ah l'ho scelto io addirittura di venire in stafogna Penso che se ne sbatta altamente le balle Secondo me Per 4 giorni proprio Entriamo assieme forza No Ti seguo e tu vai a scusarti Certo Mentire sbagliato Mentire sbagliato fra Dè Ma sì Con me puoi fare quello che vuoi Tomo-chika? Come ancora che vuoi fare? Ma no Sì Questo è E' 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 La senta June Pei Immagino E' Ha E' Chiunpei c'è un c'è? Vissi che c'è un uomo! E... chi è? Chiunpei non si riconosceva e non si riconosceva! Ma cosa, potete... Ho avuto un'epoca? Ah... Non ho avuto un tempo... Ho avuto un'epoca vissza, non ho avuto il cambiamento? Chiunpei ha avuto un'epoca! Ora, ora! Vai dentro Non rompere le palle Ma secondo me no Ma magari Ma magari Quindi entrerai e te la caverai da solo? Deh Hai signora Hai signora E torna fuori tutto pestato Che ne dici di un caffettino Maya? Eh perché? A me piace passare il tempo con te Maya quindi Ho continuato a lavorare per tutto il pomeriggio Tomo C che non è stato rimproverato troppo ma ha continuato il suo turno in silenzio E beh Alla fine del primo giorno di stage sono tornato al dormitorio E vai giornata persa per nulla E sarà così esatto per tutto il resto della settimana Area commerciale di What to Die Wild Duck Burger Sto cominciando a prenderci la mano con il lavoro qui Ah ecco lui Lui no non lavora qui Ah ah molto simpatico Stai marinando lo stage Che c'è? Posso prendere la sua ordinazione Bello patate piccanti all'aglio Basta che non mi rubi troppo tempo Che sennò mi fanno il cazziatone Ok allora posso Quindi sei venuto qua Tu no io ho pausa Eh allora va bene Sono perché ho dovuto Delle nuggets Ah e quelle erano solo le crocchette Dai sentiamo la sua opinione Dai sentiamo la sua opinione Perché dici così? Perché dici così? Eh esatto Eh esatto Oh finalmente qualcosa di sensato Te l'hai detto Aggiungo che secondo me Guarda la butto lì Magari non è vero Ma questo discorso adesso Questa aggiunta È perché abbiamo finito il suo confinant Magari se non lo finivamo Uno non si sedeva con noi Oppure due Non aggiungeva quest'ultima parte Dove diceva che noi l'avevamo aiutato Comunque tanta roba Spero è quel che Beh è Ebbè Lo speriamo tutti Beh non lo so Ci sei anche tu però Non so se considerarlo il mio migliore amico Sei un po' confuso vero? Come vuoi che stia? Vivo ogni giorno Ciao ciao Le mie statistiche saranno aumentate oggi? Finiti i quattro giorni di stage sono tornato al dormitorio No oggi no peccato Chi mi accoglie oggi? Oh salve Junpei non si è ancora ripreso Sto iniziando a davvero preoccuparmi Dopo tutto quello che gli è successo Capisco perché si sente a terra E' stato molto fortunato questa settimana però Nessuno si è accorto della sua assenza per via del tirocino curricolare Beh spero che ora stia un po' meglio Sconfiggerò quei tizi della strega Non ce la faccio più So come ti senti Ma non devi fare tutto da solo Lo so Speravo di poter Sai Ecco appunto Finire di leggere con Junpei Ma credo che ci vorrà un po' prima Cidori non sarebbe felice se me ne continuassi a piangermi addosso così Vero? Hai ragione Sì lo so lo so So che devo andare avanti E sto cercando di non pensarci Ma non ci riesco Ora so cosa vuol dire avere il cuore spezzato Allora Cosa si aumenta oggi? L'agilità Agilità 25 46 Sì ha proprio bisogno di un po' di agilità Certo magari è un investimento Non a molto lungo termine Però anche perché è molto più probabile Che nel prossimo futuro O creeremo un'altra persona Che possa fare il ruolo Della Dell'auto per tutti Oh devo sperare di trovare le carte Ciao Elisabeth Chi è scomparso oggi? E mancano quattro giorni quindi Arrivederci D'accordo Ma tanto C'è più un limite adesso alla luna piena? Nel senso A parte la gente che dobbiamo trovare Prima della luna piena Abbiamo qualche motivo di continuare A farlo Il tartaro Prima di entrare nella luna piena? Chi c'è disponibile oggi? Fuka Mitsuro Yukari E basta Con chi potremmo andare oggi? Grazie per il tuo tempo Grazie a te della compagnia Peccato Per un livello Potevamo già fare Gabriel Come persona dell'imperatrice Sto per creare un Uriel Che secondo me potrebbe essere interessante Nella speranza che non vada tutto male Perfetto Tutto questo solamente per liberarmi un po' di spazio Fiamma divina Dispensatore di giustizia Questo mio potere sarà a tua disposizione Che tra l'altro In persona 5 Io a un certo punto avrei voluto usarli tutti gli angeli Per fare una squadra solamente di angeli Poi non mi ci sono mai messo Purtroppo Però già possiamo arrivare a fare Vishnu Arti Akashi Che era un bel attacco in persona 5 Beh Direi che è arrivato il momento di deporre Oni Per un bel po' È stato un gran bel personaggio E questo Loki invece sarebbe da fare Lama della ribellione È davvero una gran bella figata di mossa Ovviamente sarebbe da creare una volta trovata Il potenza e attacchi divini Il mio nome è Bishamonten Ucciderò tutti i tuoi nemici Perché sono il tuo potere e la tua forza Forza primordiale Perforazione grave a un nemico Meno male che gli ho messo potenza bersaglio singolo Amplifica perforazione Perforazione Ecco Questo è qualcosa di interessante Sicuramente toglierò roba come Maggie Dolan Ma vorrei tenerlo nell'eventualità che lo passiamo a qualcun altro Io sono Yatayu Servirti al più grande degli onori La mia vita è il tuo completo servizio Comunque è proprio vero Più spazi hai per tenere delle persone Più non riesci a liberartene di alcune Oni Grazie di tutto il servizio E ci rivedremo un giorno Era un'ottima persona È un'ottima persona Tanto attacco Però abbiamo iniziato ad avere persone Che riescono a sfruttare meglio tutte quante le statistiche Allora Mitsuru Come va? Star Finalmente la situazione si è calmata Comincerò a delegare i membri del consiglio studentesco più giovani Per far loro guadagnare esperienza E con tutto quello che è successo Vorrei avere un po' di tempo per me Naturalmente parteciperò ancora alle riunioni Oh giusto Stavo valutando anche io di andare Se a te sta bene Ti andrebbe di unirti a me oggi? D'accordo Andiamo Grazie A dire il vero oggi Avrei avuto il piacere di fermarmi in un posto Non c'eri mai in trato Immagino Sai come si mangia qui? B-baca Duh Beh si è molto normale Ehi Siamo amici mica per nulla Posso dire che lei è un'esasperazione di Haru O comunque Haru è una versione molto più chill di Mitsuru Cioè sono tutte e due ragazze comunque ricche Molto fuori dai giri Però comunque Haru è molto più improntata nel conoscere Nell'espandere le sue vedute in modo però più concentrato Lei invece proprio non sa niente di tutto Ma anche per? Per cosa? Per il tartaro? E perché io sono bravo a combattere Di nulla capo Mitsuru sembra fidarsi di me Sento che il nostro rapporto si è rafforzato E io spero di arrivare entro fine gioco Ad averle completate tutte e tre le ragazze Ci manca un po' per completarli tutti Però ce la possiamo fare Spero che non si sporchi Ho mangiato l'hamburger con Mitsuru Poi sono tornato al dormitorio Che succede oggi? Oi Junpei E la madonna che modi dei merda E la madonna che Eh, lo immagino fra Secondo me dovresti dargli un'occhiata No, deve farlo lui, stai buona Non posso capire, non posso capire Non posso capire Questo è... È molto bravo È veramente bravo Che cosa non posso capire Eh? Questo è... Ha già trovato la sua face Il stomaco ha rilassato il aereo Che fungah Chi dori Chi dori Chi dori Chi dori Chi dori Quale si diceva Chi dori bravo ragazzo ah non ti preoccupare ci ho fatto il callo con tutti voi stronzi ti prego no vale anche per me mi fido di tutti voi io Junpei ottiene un nuovo attacco vampata vitale danno da fuoco ingente un nemico ignora la resistenza e ripristina gli hp sti cazzi i miei amici sorridono con gli occhi lucidi percepiscono un forte legame con loro livello 7 giusto 8 livello 9 cavolo me l'avevo anche dimenticato manca poco quindi l'unica che ad ora quindi non abbiamo fatto nulla è proprio Aegis a questo punto mi chiedo se ci sia qualcosa prendiamo il pomodoro intanto vediamo quanto abbiamo fatto di raccolto pomodoro giallo giallo grande giallo ex continuiamo pure ci vorranno pure 15 giorni eh però sti cacchi vediamo pomodoro ex fatto con Aegis 100 hp 30 sp mi chiedo cosa uscirebbe con Junpei mi chiedo cosa uscirebbe con Shinji Shinji sicuramente era quello che le piante le faceva uscire le migliori in assoluto ovviamente il tempo è contato con lui questi pomodori se rimangono nel new game plus sicuramente con Shinji sono l'opzione migliore da fare saranno la versione per tutti più potente dei pomodori ti informo che siamo a dicembre nel periodo più frenetico dell'anno nel tartaro si riscontrano tracce umane seppur li ti dovresti affrettare per prestare soccorso a chi ne ha bisogno lo so me l'hai già detto ma a questo punto potrei anche andare potrei anche andare stasera se Junpei non aveva nulla da fare si combatterò fino a sparire l'ora buia ok scusami se ti ho ignorato però sto valutando sto valutando se è più importante in questo momento provare ad aspettare domani e vedere se Junpei vuole leggere il manga e ci spero oppure se entrare stasera facciamo così abbiamo 4 giorni il che vuol dire che la gente nel troll tartaro ancora non scomparirà non penso ci siano nuove divinazioni infatti non è uscito nulla di nuovo quindi anche stasera aumenta la magia ecco qualcosa di nuovo che non era ancora uscito la magia però eh a chi la aumentiamo non c'è nessuno attualmente che sia una persona magica sicuramente definitiva c'è lui volendo proprio sfruttarla per andare con Megidolan un po' più forte ma giusto anche per vedere il gioco che non l'abbiamo mai visto Edge House of Fortunes ah è un gioco di carte simulatore di divinazione dopo aver ascoltato l'accuratissima divinazione del dottor Edgar il mio sesto senso sia affinato vabbè 3 punti a magia buttali via comunque 54 di magia con un Megidolan qualcosa di danno lo facciamo di sicuro beh oggi se tutto va come deve dovrebbe esserci agli ase oggi vi offriamo un set per diventare una spia realizzate i vostri sogni e diventate l'eroe delle spy movies iniziamo con scarpe del flagello con queste scarpe speciali non farete alcun rumore quando vi infiltrerete santo cielo che meraviglia ma aspettate non è tutto vi aggiungo anche occhiali infrarossi indovinate quanti uno non lo so le scarpe però proviamo visto che non ce le abbiamo vediamo come sono giustamente ormai non c'è più il nostro amico è scomparso letteralmente nell'aria e quindi mi chiedo cosa succederà a fine gioco sai quando incontri tutti i confident allora yase andiamo avanti oh tu intanto va avanti non ho ancora finito di allenarmi ti raggiungo lì ti vedo un po' provato oggi eh tutto a posto beh se vuoi avere una borsa di studio si ti devi impegnare si però cerca di non ammazzarti come quell'altro che si è spaccato un ginocchio per nulla per nulla no però è ancora più buono quando è gratis però beh se non vengono loro vengo io allora mi piace mangiare gratis eh lo so non capita spesso però quando posso vengo ecco qua sbagli tu però fra eh ho capito però tu lo fai in modo mega agonistico magari c'è chi lo fa in modo molto più tranquillo qualcosa è cambiato eh lo so devi farlo per la tua famiglia lo so lo so il problema è che non devi esagerare comunque vai tranquillo ho deciso di tornare al dormitorio ok bentornato è quasi arrivata la luna piena non sono ancora apparse ombre ma sono comunque preoccupata oh ora che mi viene in mente ryoji kun è di nuovo qui sta facendo visita a junpei è ancora molto giù per fortuna che è un buon amico come ryoji kun allora visto che probabilmente quindi junpei è occupato esatto l'attento stasera saltiamo ancora domani se junpei è disponibile leggiamo se non è disponibile entriamo nel tartaro io e te andiamo a fare le piante se domani junpei non vuole leggere entriamo entriamo dentro oh che eroina sublime la murasaki no ue doveva rappresentare la donna ideale del periodo eian la bellezza eian per un l'antanomasia a proposito di murasaki no ue ecco una domanda per voi nel genji monogatari murasami no ue viene descritta come una donna della più alta classe dell'aspetto nell'intelligenza e del carattere nella posia che il protagonista genji le manda cosa viene paragonata? ovviamente ai fiori di ciliegio immagino fosse una domanda semplice significa che la tua immagine splendida come un fior di ciliegio selvatico non abbandonerà mai la mia mente che raffinatezza a confronto di loro voi siete si si bravo bravo pensa ancora quando c'era lui quando c'era lui i treni arrivavano in orario vero? allora oggi disponibile c'è solo la gente qui a scuola e ci sono solo le mie amiche incredibile beh beh quell'altro ancora no passiamo il tempo con lei grazie andiamo al centro commerciale paolonia perché eri davanti alla farmacia? cos'hai comprato? davanti alla farmacia sicuramente tu hai bisogno delle basi meno male che l'ha capito comunque prova il riso è facile dopo che mi hai quasi avvelenato quindi ma no dai sei una ragazza che si impegna moltissimo ma sì che è vero ti impegni sempre per tutti anche tu senza di te non sapremmo dove andare in teoria ma no lo sa che non è vero e perché no è qualcosa di buono saper usare le macchine le cuffie da doppiatore non devi ripagare nulla impegnati per te stessa e fai le cose nel modo in cui pensi sia giusto e quindi chi se ne frega cioè sti cacchi non è assolutamente vero sai che problema perché sono il leader grazie a te dell'impegno che ci metti credo che fuga si fidi molto di me adesso sento che siamo diventati più intimi ah non ti preoccupare andiamo pure se stasera Junpei non è disponibile tartaro assolutamente ehi ancora qua sei senti chi parla sei in giro solo con una sciarpa e una camicia vai vai più tardi nel senso che dopo esci con lui mannaggia chissà come mai chissà come mai non lo so ma sono preoccupata lo sapevo eh 危険 ryoji 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 destino ryoji 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 pr ryoji he ryoji ryoji elling ryoji era ryoji una i di somebody Ci sarà un momento in cui lo capirà Secondo me Però essere distrutti Equivale a essere morto E mi sa che stasera Junpei salta Vero? Beh Quindi niente stasera? Ma porca troia In che senso? Dimmi Si preoccupa per noi Non preoccuparti per me Oh Non c'è nessun problema Puoi farlo Forse questo è finalmente l'inizio del nostro confident con lei No Puoi stare con me quanto vuoi Non ti preoccupare Cioè Chi se ne frega di andare a dormire Cercherà di ucciderlo Si che piangeremo se tu morissi Ma certo che piangeremo se tu morissi Scema Stupida Non si dicono queste cose Ah e dicevo Sono rimasto da solo quindi Ah Niente Junpei Niente Yukari Niente di nessuno E tu? Non farò nulla di avventato Oggi aumentano la forza D'accordo Oh ma mi faranno una tessera a sconto Per tutte le volte che sono qua Prima o poi eh Spero di essere ancora in tempo domani Però cavolo Spero di non aver tirato troppo la Tarda notte addirittura Che succede? Ma non è neanche composto il numero Beh si Tecnicamente si In che senso trasformato? Vabbè che dopo Il nostro amico domenicale Nulla mi sorprende più eh Che è un corpo Però lei è sicuramente Più particolare Hai Eh vorrei capirlo anch'io Se me lo dite Vabbè Speriamo di essere in tempo domani Per entrare nel tartro Cavolo Per oggi le lezioni sono finite Oh ho ricevuto un messaggio Da Rioji Sembra che oggi non fosse a scuola Che abbia avuto un imprevisto urgente Dobbiamo vederci Venire nell'aula di musica Scusami se lo scarso Preavviso Ma dobbiamo vederci subito Chissà cosa succede Se lo salto Cioè Non che voglia Però chissà cosa succede A proposito Rioji mi aveva detto Di venire nell'aula di musica Dovrei passare il tempo Con Rioji Vediamo Adesso vedi che è legato Ah no è ancora qua dai Che succede Non capisco Non capisco Effettivamente non capisco Sono ricordi felici questi Oh la madonna Bravissimo Bravissimo Quando l'ha imparata Quando l'ha imparata Io ho visto questo Mi chiedevo A me 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 Cioè Lui è sicuramente Una persona Molto particolare E' innamorato di noi Perché lo dici? Ah c'è Fuka Hai interrotto un momento importante No era lui Sì ero con lui Io e Fuka siamo usciti dall'oro di musica e siamo tornati al dormitorio Non riesco a togliermi dalla testa la melodia che ha suonato Ryoji Beh sicuramente è stato importante uscire con lui però Ed ecco qua il mio pacco Ora direi che Qualsiasi cosa succeda Dobbiamo entrare Scarpe del flagello Domani ci sarà una luna piena Non che ormai voglia dire qualcosa Non c'è niente da fare Meno io a morte Magari uscirò con Ryoji Oggi non l'ho visto a scuola Ma probabilmente avrà saltato le lezioni per starse in giro Oh aspetta cavolo Non so dove abita Fuca Porca troia Dai entriamo Grazie a tutti